Con un foglio A4 appeso dinnanzi il portone principale del cimitero Angeli, l'amministrazione comunale ha avvertito i cittadini che il cimitero sarà chiuso al transito delle auto e dei bus nadvetta per lavori di manutenzione e pavimentazione delle strade. Proprio da oggi e per due settimane, proprio per consentire all'azienda che si è incaricata dell'appalto di poter lavorare liberamente all'interno delle strade del cimitero Nisseno. Già nelle scorse settimane erano già stati realizzati i primi interventi per la manutenzione di cunette e caditoie mantenendo aperto l'accesso alle auto, ai bus della SCAT come appunto da calendario. Ma da oggi, giovedì 3 ottobre, il provvedimento di chiusura al transito delle auto è totale. Così per alleviare il disagio ai visitatori è stato aperto soltanto l'ultimo cancello laterale in fondo alla via Castello di Pietrarossa, dal quale però è possibile raggiungere solo ed esclusivamente le cappelle e i loculi di nuova costruzione che si trovano nella parte a valle. Terminati i lavori di pavimentazione delle strade, sarà effettuata la manutenzione del verde e la scerbatura.